Io non ci ho mai giocato quindi non dico nulla Allora una volta ci ho giocato ma però non lo capisco Io ci gioco Cioè nel senso The Sims in pratica da quel che mi ricordo è tipo fai una persona Fatti una vita sociale che non avrai mai nella vita reale praticamente Diventa una persona di successo che non sarai mai nella vita reale bla 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 Diventa qualcosa Esatto Appunto Oh my god ragazzi Io Mattia e Sheira abbiamo incontrato Lana Rhodes su Valorant No vabbè video assolutissimamente non fake Oh my god Oh my god Ok ok basta 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 Torniamo Torniamo serie per il piacere E ciao ragazzi bentornati a questo nuovo video Sono Agri Pergi Siamo tornati su Valorant Insieme a Mattia e Sheira Questa partita è stata semplicemente Puro cazzeggio time Veramente Tra l'incontro con Tra virgolette Lana Rhodes E la leggendaria skin Mamma mia Penso di essermi innamorato di questa partita Penso che questa forse sia uno Dei video più belli Che io abbia mai registrato Editato E anche caricato addirittura Ma prima di passare al video Vi ricordo che io stremo su Twitch Ogni lunedì dalle 8 fino alle 12 E il resto della settimana Dalle 20 fino alle 22 Tranne il mercoledì E il sabato Vi ricordo anche che io ho un canale TikTok Dove carico delle clip Uscite da video Live Oppure partite non registrate Comunque Cazzeggio time con i miei amici Niente Detto questo Lasciate like Commentate che gioco Volete vedere per il prossimo video Magari un altro video di LOL Un altro video di Valorant Non lo so Ditemelo voi Detto questo Vi lascio il video Buona visione Oh mio dio Ancora non riesco a credere Che ho incontrato Lana Rhodes Ma che cazzo Dovevo chiederle di farmi fare un po' Lebron James con il dunk Signore e signori pazzesco Mamma mia signore e signori Che cosa pazzesca Lebron James Lebron James Io sono la buona terrorista e basta L'ho fatto in all chat Capito round Lebron James Bravo Tranquillo Tranquillo Che pro Sono in Ciao Lanciamo la bomba Oh pro Sei irakena Visione bloccata Ti cura Attenti Ragazzi Spike a terra In alto Da Spike a in alto Stanno tutti in alto Umogeno pronto Io quando ho let Mi sa che stanno girando Si stanno girando Li ho sentiti Non è vero Forse no C'è un francese Qua E c'è un Lebron James Porca Vai siete rimasti voi due ragazzi Lebron James Attenzione Lebron James Ragazzi il francese sta girando Mi sa Secondi rimasti Aspetta matti C'era una classic lì che faceva Tu ru ru Du ru Du ru Du Guarda se Guarda il corpo di sage Dov'è sage Lì Ah non è vero A francese Grande mattia Grande mattia Hai ucciso lupo Scese Let's go Guardiamo Ah bella No io pensavo E y Io pensavo fosse quella lì che faceva Tu ru Du ru Du ru Du ru Du ru Ma davvero c'è un'arma che faceva Tu ru ru È quella lì di z Fra Se tu ispezioni quella di z Ti parte una musichetta che fa tipo Du ru Du ru Du ru Du ru Du ru Du ru E' bellissima Io la amo ti giuro È tipo una delle mie Quando le mie robe preferite Se vengono incisi Sono fumato Signori È stato bello Ah è vero Mi ero scordata No non sono in mid Sono in B Mattia Non morire matti Do sta In mid Sono in B Spike Io Allora È letteralmente Porco Uno è morto Ragazzi Io quando Blocca la visione Disinnesc Manca un solo nemico Il per me Ricarico Minchia che Il lag però زighighigh OBтоб I D Marianne sbocchi Dei Io Non 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 Attento raddi brim è qui la quilla terrorista raise energetico ecco lo sai ce l'ho ce l'ho eccolo senti senti durdururuu durdururun duro uro sentiti the city city all ball Steveni va bene prem seu nome poi mi ci volan premiscino grande matti ho una presa sono in c 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 ecco ehi 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 umogeno pronto spike piazzata regarico troppo forte signore e signori troppo effettivamente troppo forte qui o una davanti salva salva la turudurudu ma ti salva la turudurudu ho salvato l'ho salvata che cazzo è stati vai che chiusa di chiusa di chiusa di chiusa ho sprecato la mia ulti ma va bene per la patria vai ma ti ha salvato la turudurudu me la passi mi passi la turudurudu l'hai data a reina ah no l'hai data a me ok madonna fortuna che ringrazia aveva già qualcosa minchia l'avresti data a reina ma ragazzi ragazzi al momento mettiamoci qua ragazzi mettiamoci qua ma che cosa sta facendo mi sta facendo i massaggi nel culo non è il momento ragazzi non è il momento ragazzi chissà perché oh porco ora signori signori sono in c sono in c sono in c perfetto ti hanno un culato signore e signori vanno un culato a me si è un botto ragazzi a me hanno scommato ma mi ha one shottato quello è per il fatto che porca puttana ok io stavo letteralmente lontanissimo da lei ero full scudo full tutto e mi han culato e ho perso il turudurudun quindi adesso sono in cazzato nero yes boys fanno le tattiche coreane ma me super vabbè che pessimi na 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 baby you want to play let's play na 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 ma la b rapido ma poi si stanno giocando col mio cervello sono un biozzo non cazzo ne sai non cazzo che stanno giustizia dal cielo proprio no no spike a terra ho sedito un pro come un transformer enorme ma ma ha preso in testa porca era 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 cosa ma si chiama lana rhodes come no 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 c'è sulla c'è sulla cezzura 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 leo leo ci togli togli sto pezzo leo togli sto pezzo ok 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 stavo giocando stavo giocando bene nooo si chiama lana rhodes zitto mattia zitto povero leo basta dargli lavoro ma non è quello che deve censurare anche su nome come cazzo ogni volta che premerò tab dovrà censurare il nome della jet peccato mi dispiace per lei per lei per lei per leo non so che dirti ragazzi 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 mi sa che sono anche loro scammano esatto quindi stai attento matti fuori dai piedi no non hanno scammato 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 io 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 porco grazie shaira per me io porca madonna attento che che bello c'è una jet dietro adesso che arriva da dietro c'è esatto ragazzi questa è tua ma è la madonna sei strutturata qualcosa non muore e che coglioni 30 secondi rimasti vai che a terra in c ragazzi l'ho visto cosa hai visto il tuoAST guarda prima ti guarda vado ragazzi mamma mia sono troppo contento io io quando sono contento di avere ragazzi io vi giuro se un giorno mi capita nello c'è un culo della madonna e ragazzi ve lo dico se un giorno mi dovesse capitare in mid una roba del genere c'è in e mid se dovessi mi dovesse capitare nello shop una roba del genere io vi giuro io vi giuro su dio ha un dato la diva ma preso testo perso turuturutur matti vai a salvare il turuturutur vai salva il turuturutur matti salva il turuturutur un bike piazza grazie shy va bene rata nata dove stanno dove stanno dove stanno stanno in a devi spottarmeli granata rina rina prova a rina il cross e ricirconferenza ecco uccidete viper vai per al turuturutur ragazzi uccidete viper metti la canzone di sonic like a terra in a ma che c'entra sonic no c'è sarebbe bello tipo davanti no 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 le canzoni spaccano in generale tutte le canzoni di suoni mancano il pro sono in spike a terra in funzione no ragazzi salvate il turuturutur vi prego matti 10 secondi rimasti spagnoli e lì sciagli e lì quello brava bravissima carico ma dietro mi sta a vedere ciò che va ma saltini della spike ragazzi tenete la spike sta lì se gioca piano non perde il turuturuturutur ti prego niente manca un solo di matti 10 secondi rimasti spagnoli dai è stato bello perché mi dispiace no ragazzi io vi giuro un giorno un giorno un giorno comprerò quel turuturutur ve lo giuro suddio la userò sempre sempre fan culo fan culo il prime fan culo il drago fan culo la skin world championship era un pacchetto shy però le skin del pacchetto tornano ogni tanto nello shop quindi sono abbastanza fortunato posso trovarlo mi va bene anche il bulldog dato che io non sono pronto però lo voglio sono qui sono qui sono qui sono qui ho visto un po di gente ho visto un po di gente io ma pazzi sono sia in asia che l'asie che no stanno stanno andando in c ragazzi no sono qua in c ragazzi che cazzo hanno pianto porco dito che palle vi dico che sono in c grande matti ok allora ragazzi se potete salvate dove cazzo sto guardando questo ah perché sono anche in a fortissima reina ma era lì vai ragazzi basta adesso adesso la metto adesso adesso la metto per un secondo ragazzi aspettate la metto per un secondo ma è questo eccola lì eccola lì dove dovrei andare calmo calmo sono qua sono in b penso sono in b non si sa dove vanno sti qua metti pausa sta canzone cazzo vanno lì stanno grazie mille matti veramente grazie ma stanno lì dove che stanno dal fianco porca puttana che fa una mappurontato in faccia ma stanno tutti ma perché stanno sempre lì conferati stanno lì e tristezza mi sono rotta il cavolo per barchi no ragazzi allora se io stavolta non riesco a prendere il turudurudun e ascoltarlo un'ultima volta ok mi arrabbio e sarò triste ok sarò triste va bene voglio solo sentire il turudurudun mica a me va bene soltanto anche avere una classic col turudurudun soltanto per ascoltarlo lancio un fumogero che cazzo sta facendo il vietnam giustizia dal cielo godo hai ucciso l'ana no no non dirlo non dirlo matti andiamo ragazzi quella lì quella lì al turudurudun alzò il fumogero nel momento è vero ah no all'odin quindi niente turudurudun peccato lui 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 ha turudurudun si 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 ok bro ok però cazzi adesso ciao ragazzi io posso anche andare via 30 secondi rimasta lì allora non è un problema posso ascoltare il mio turudurudun 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 oh devo prendere l'arma wow che figa cazzo sto phantom nooo nooo il mio turudurudun nooo nooo perché a me mondo che cosa ti ho fatto di male che cosa ti ho fatto di male perché io perché se ci riesco e tanta roba signori vai matti vai matti hai visto line up vuoi fare line up vediamo vai matti vai crediamo in te matti line up vai matti a matti a line up to strong umogeno pronto vediamo vediamo signori ecco la freccettina eccola ok non vedo adesso penso che sia una buona posizione solo che non ha contato nessuno guarda a se a Dove sono le scarpe? Dove andiamo? Scusa Dove sono le scarpe? Another line up Another line up Vai Matti Vai Vai Su camille palle Manca un solo nemico Ok questa è morta Sta letteralmente lì dietro ragazzi Sta letteralmente lì dietro Grandissimi E niente anche stavolta Anche stavolta ragazzi niente Vedetemi la Stavolta come sono belli La motherlaya Perché vuole bene Ma è pazza Sì È fortissima sta Sei già altro che È crazy È crazy È crazy Non c'era nessuno State attenti signori Porca la madre Lo sapevo Porta miseria di buono Uccidete con la Viber Umogeno pronto Lì a fianco letteralmente ragazzi Broma Mattia No Lidwu La spike Ricarico Manca un solo nemico Già dico qui Guardate qui Nessuno con il turuturutunna No non c'è nessuno Non c'è nessuno con il turuturutun ragazzi Magari imparate qualcosa Ci può pensare qualcuno No è scomparso Perché l'hai fatto scusa Ah no è qua Ok non scazzavo Grazie Matti Grazie mille per avermi comprato un phantom Senza avermi comprato un phantom Allora Trovate e uccidete quella Minchia come l'hai detto Porco Trovate e uccidete quella Viber Mi pare anche una buona soluzione Sono tutti lì No No Matti non farlo Muori Oh panco Wow Oh Quasi quasi Another line up Adesso Seiji muore da sola Di nuovo E poi succede come prima di nuovo Oh 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 Minchia Potevo distruggerla Granda rose No 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 Sì però Sta qua è scema Poteva almeno aspettare Adesso sanno dove la Spike Scusate eh Beh io slitto di fianco Ragazzi uccidete Uccidete quella Viber si 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 ragazzi manca un solo nemico ma non mi ha dato l'assit ragazzi 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 bene siamo arrivati fino alla fine della prima parte di questo video chiedo perdono per averlo diviso in due parti però sarebbe venuto un video troppo lungo da caricare tutto in una volta dunque ho deciso di fare così vi ringrazio per aver visto fino alla fine domani caricherò alla seconda parte e niente lasciate like iscrivetevi al canale attivate la campanella commentate che videogioco vorreste vedere per il prossimo video non so vorreste rivedere league of legends voleste rivedere di nuovo valorant voleste rivedere cazzo ne so io barbie e tua mamma in carriola non lo so ditemelo con un commentino grazie bene detto questo noi ci vediamo domani con la seconda parte di questo video ciao ciao ciao